... che posso ballare, magari io d'antivo, d'arte qualche video... Eh sì! ... che la regola... ... che la regola... ... che la regola è una cosa che mi ha già visto e per me vado... Allora, il ballo sul tamburo marciano in santo, in differenza rispetto alle altre tamburiate, non fa parte della campanella del tamburiato. Perché mentre le tamburiate hanno bisogno anche di altri strumenti, e la voce che vedete dal tamburo... Tutte le stile che stanno dicendo! Questo qui invece è un vero e proprio ballo sul tamburo. Cioè, praticamente il ballo e il ritmo dei passi. Cioè, andiamo al ritmo del tamburo. Il canto, c'è o non c'è, è la stessa cosa. La maggior parte era un canto a testesa, perché quando si andavano anche dei dinaggi, oppure quando si usano soprattutto i canto a testesa. Noi abbiamo... ...